Le nostre condizioni lavorative ci sembrano ancora un po' precarie. Distanziamento sì, distanziamento no, la mascherina sì, la mascherina no, graduatorie sì, graduatorie no. Basta ora! Sono in vacanza da mesi e mesi. Specialmente se lo stipendio è pagato con le tasse dei contribuenti. Mamma mia! Chi si sente debole rinuncia al lavoro e lo faccia fare meno deboli. Selezione naturale. Oggi rispondiamo ai commenti degli haters, quindi degli odiatori, ma non i miei, quelli degli insegnanti e cerchiamo di fare un po' di critica ma costruttiva. Questi commenti io li ho trovati molto facilmente, non mi sono messa a spulciare mettendomi gli occhiali e a cercare quanti odiatori. Mi è bastato semplicemente cercare degli articoli su Facebook, tempo massimo 5 minuti, e aprire commenti. Iniziamo dalle ultime dichiarazioni di Matteo Renzi, che dice alla stampa. Se i netturbini e le cassiere vanno a lavorare da febbraio, perché non lo fanno pure i docenti? La risposta, caro Matteo Renzi, che peraltro è anche una moglie insegnante, è che i netturbini lavorano da soli oppure lavorano in piccoli gruppi e le cassiere hanno comunque la possibilità di mantenere il distanziamento sociale. Detto questo, vado a dire che durante il lockdown, dove avevamo tutti molta paura, bisogna riconoscere l'importanza di queste figure lavorative che non si sono tirate indietro. Ma, caro Matteo, neanche gli insegnanti si tirerebbero indietro, se solo non fosse che le nostre condizioni lavorative ci sembrano ancora un po' precarie. Distanziamento sì, distanziamento no, la mascherina sì, la mascherina no, graduatorie sì, graduatorie no, e ancora prima concorso sì, concorso no, aprire le scuole sì, aprire le scuole no. Forse tutta questa demagogia futile verso gli insegnanti non è costruttiva, sarebbe invece costruttivo lavorare tutti insieme per mettere in sicurezza gli alunni, le famiglie, ma anche gli stessi docenti. Andiamo avanti con un altro commento. I lavoratori autonomi per far mangiare la famiglia e poi i medici e infermieri durante la pandemia sono andati a lavorare lo stesso, rischiando di essere contagiati. Chi non vuole lavorare ha casa in aspettativa a zero euro, chi non ha voglia di fare un bip percepisce soldi detutelato, chi lavora se la prende sempre dietro. I docenti non sono potuti andare a lavorare perché alle scuole superiori, per esempio, in una classe piccola stanno ben 30 studenti e un docente o addirittura due docenti nel caso ci sia un insegnante di sostegno. Non era possibile organizzare gli spazi in altro modo e pare che anche quest'estate sia stato molto difficile farlo perché non sono stati trovati gli spazi e ci sia un po' focalizzati su quelli che erano i banchi e anche tanta demagogia e tante informazioni false, deviate, che hanno portato l'opinione pubblica a scatenarsi contro la classe dei docenti, che in realtà non ne può niente, anzi vorrebbe essere maggiormente tutelata. Ho una bassa opinione degli insegnanti di oggi, in presenza lavorano la metà di qualsiasi altro impiegato statale e poi stanno sempre a lamentarsi per tutto, per lo stipendio, per le riunioni, per il lavoro, a casa, ora pure per il coronavirus, mamma mia che cattivoni! Ce ne fosse uno che lavorasse per missione come ai vecchi tempi, io non lo sapevo che fare l'insegnante fosse volontariato, anche fare l'operaio, il netturbino o la cassiera dovrebbe, secondo me, far parte delle attività di volontariato, se fa parte quella dell'insegnante. E il risultato si vede, che tristezza! Di questo commento, che non è un commento ma un post su Facebook, voglio fare il nome perché si tratta di un giornalista, giornalista del messaggero veneto, che si chiama Mattia Pertoldi, che dice, penso che sia abbastanza vergognoso che un terzo degli insegnanti rifiuti il test sierologico e personalmente lo avrei reso obbligatorio. Dice poi, ma non so se sia costituzionalmente possibile, lo ammetto. Molti docenti non sanno neanche se avranno un contratto a settembre perché siamo tutti in attesa della pubblicazione delle graduatorie, quindi tutti i precari sono fermi al momento, come lo sono le scuole. Detto questo, il mio parere da insegnante è che, sì, il sierologico va bene, ma forse sarebbe stato più opportuno fare dei tamponi, perché noi come docenti, ma anche agli studenti, ci troviamo in una situazione che non può essere definita tranquilla come quella di altri lavoratori. Io, quando giro negli esercizi commerciali, vado dall'assicurazione, vado in banca, vado alle poste, trovo dei dipendenti sereni che possono lavorare muniti dei loro DPI, i dispositivi di protezione individuale, che hanno dei plexiglass davanti, vedo degli ingressi contingentati, vedo delle persone a cui viene misurata la temperatura col termoscanner, invece noi dovremmo pregare i genitori di misurarla loro ogni mattina. Genitori che magari si devono alzare alle 4 per lavorare e non hanno tempo di misurare la febbre ai figli o che se ne dimenticano, quando invece questi bambini dovrebbero vedere la loro temperatura anche misurata prima dell'accesso a scuola. Penso che sia anche abbastanza vergognoso che ci siano centinaia di migliaia di insegnanti che hanno già spedito o lo faranno, certificati medici per non ritornare al lavoro. La classe dei docenti è la più vecchia, fateli andare in pensione, ma non uccidendoli nelle classi pollaio con il covid, chiaramente questa è un'iperbole, però non deve essere un'eliminazione, deve essere che si può finalmente liberare la classe docente che ha anche voglia di andare in pensione, ne presumo dopo tanti anni, e dare spazio a chi è più giovane. Sebbene ora si dica che mantenendo il metro di distanza si possono togliere le mascherine in classe, questo lo possono fare gli studenti, la mia domanda razionale è come mai allora in tutti gli altri esercizi commerciali, per esempio, io non mi posso togliere la mascherina anche se mantengo il metro e non sono in un'attività dinamica? Perché quando io vado in banca e parlo con l'impiegato della banca io sono seduta esattamente come uno studente a scuola, tuttavia se non mi metto la mascherina mi cacciano. Poi anche qui penso che sia anche abbastanza vergognoso che ci siano migliaia di insegnanti che rifiutano i posti al nord e non perché lontani da casa, ma perché terra ad un tori. Questo a mio parere è un commento che aizza l'odio tra nord e sud ed è un commento veramente triste, anche perché da docente, frequentando tutto il giorno gruppi di docenti, non ho mai letto che il sud consideri i docenti del nord degli un tori. Anzi, probabilmente i docenti del sud, molti verranno al nord per lavorare perché c'è molto meno lavoro al sud e dovranno stare lontani dalle loro famiglie, mettersi in condizioni di rischio perché per un ennesimo lockdown forse non potranno rivedere figli, mariti, zii, parenti, genitori anziani per mesi. Penso che chi ha davvero seri problemi di salute abbia tutto il diritto di restare a casa, tutto. Ma, attenzione, c'è il ma, perché questa frase andrebbe anche bene che questo non sia un paese di malati e che lo Stato debba fare lo Stato, come gli insegnanti debbono insegnare a meno che non vogliano lecitamente trovarsi un alto impiego, magari nel privato. Anche questo, magari nel privato, è geniale perché qui il giornalista ci vuole dire che gli insegnanti devono fare gli insegnanti e quindi devono andare ad insegnare a meno che non vogliono fare un altro lavoro e gli consiglia loro di andare nel privato come per dire, voi privilegiati statali, questo è il sottotesto, non è scritto, quindi mi si potrà dire io non intendevo questo, ma il sottotesto è questo, magari nel privato, altrimenti si sarebbe fermato a trovarsi un alto impiego. Penso e spero dunque che dal Ministero dell'Istruzione vengano inviate migliaia di verifiche medico-fiscali, ma anche più volte al giorno, di continuo. Ma certo, ma possono mandarne anche migliaia, perché i docenti di 50-52 anni che sono a rischio non credo che andranno al billionaire a ballare, ma saranno a casa, perché sono veramente a rischio. E penso che i sindacati, per una volta, anche qui cattivi sindacati che difendono i lavoratori, dovrebbero essere al fianco del paese davvero, in questo momento, delicato. Sindacati, mi raccomando, non tutelate la sicurezza dei docenti e fate le ronde controllate chi è davvero, davvero precario di salute. Mi raccomando. Tanto chi è in buona fede non ha nulla da nascondere. No, infatti, io rispondo anche pubblicamente, ma è ora di finirla. Per tanti di prendere per il naso le persone, specialmente se lo stipendio, e questa è la chicca, Dulcis in fundo è pagato con le tasse dei contribuenti. Mamma mia, che bello questo commento, anzi, questo posto è datato 30 agosto, un posto che ci fa vedere quanta fiducia ha lo Stato, ha la stampa, ha la comunicazione, anche istituzionale, e non della classe docente, è quella che educherà anche i suoi figli, Mattia Pertoldi. Quindi, davvero, piacevole. Andiamo avanti con altri bellissimi commenti, magari di genitori, che poi potranno essere genitori di miei o vostri alunni. Ma smettete di pagarli finché non mettono il piede in aula, no? Scommetto che sparirebbero tutte le lettere di richiesta di esonero. Quindi la salute del lavoratore non deve essere tutelata. Di conseguenza, nel momento in cui si toglie lo stipendio, allora tutti correranno in aula. Dubito. Anche questo commento è molto piacevole. Qui addirittura si parla delle ferie, delle ferie che i docenti stanno vivendo da febbraio, a quanto pare. Purché rinuncilo allo stipendio? Basta ora! Sono in vacanza da mesi e mesi, quindi i docenti, chi? Si sono fatti con la didattica a distanza, hanno imparato a utilizzare piattaforme che non sapevano usare perché classe docenti, 52 anni, avete presente? Hanno fatto interrogazioni, videochiamate, lezioni su Meet, compiti online, appelli online, e di tutto si sentono dire che sono in vacanza da mesi e mesi. Poi anche questo è un altro commento che è veramente preoccupante, preoccupante perché questo fa capire anche non soltanto la considerazione del docente, ma anche quella tra lavoratori. La didattica è in presenza, gli alunni crescono, socializzano e diventano cittadini, non con la DAD, ma in presenza. Con la DAD crescono, diventano cittadini perché studiano, nel momento in cui siamo in una situazione di emergenza. La DAD è stato un grave problema, ma era emergenza, quindi va bene. Mai più tornare a rovinare le future generazioni. Le future generazioni non sono rovinate dalla DAD, probabilmente sono rovinate da commenti come questi. Chi si sente debole, rinuncia al lavoro e lo faccia fare i meno deboli. Selezione naturale. OBS ci fa una pippa. Siamo nello stato di natura. Siamo lupi contro gli altri lupi. E niente, chi la dura la vince, se non ce la fate, fatevi da parte. I deboli facciano altro, voglio dire, no? Mica potete insegnare. Solo i più forti possono insegnare. Poi, sempre i soliti stereotipi, fa nulla né a casa. E poi questo, e con cui concludo. E poi ci sorprendiamo del fatto che la scuola non funzioni. Poveri figli in mano, a nulla facenti. Quello che voglio dire rispetto a questi commenti, commenti che si leggono sotto tutti i post, è che i docenti sono degli esseri umani, quindi chiaramente ci sono docenti più o meno bravi, ci sono docenti più o meno appassionati, come ci sono impiegati più o meno appassionati, come ci sono cassieri più o meno appassionate, eccetera, eccetera, perché siamo tutti esseri umani. Ciò che però non tollero è il rivoltarsi di genitori, della classe dirigente, dello Stato, anche contro la categoria degli insegnanti, che per professione si occupano di educare i vostri figli. Educare vuol dire exducere, portare fuori da qualcosa. Di conseguenza, noi portiamo fuori dagli studenti il loro potenziale formativo. Lo Stato ci deve mettere nelle condizioni di svolgere al meglio il nostro lavoro e soprattutto in sicurezza. Ecco perché una parte dei docenti non è tranquilla rientro a scuola, perché qui, tra cambi di linee guida, tra direttive, comitati tecnici, che cambiano idea continuamente, noi, molti di noi, non ci sentiamo tutelati abbastanza. Al prossimo video!